Com'è nata l'idea di questa scuola qui nel cuore di Firenze per te che non sei un fiorentino? Allora innanzitutto è nata da Marco Giorgetti dal Teatro della Toscana quando sono passato da qui con lo spettacolo Servo per due Marco mi ha chiesto se fosse interessato alla formazione io prima un po' nicchiato dopodiché invece non solo mi ci sono messo ma mi ci sono messo con anima e corpo per cui la paternità dell'idea è sua e ovviamente la disponibilità che lui mi ha dato e che il teatro mi ha dato nell'idea di idearla in questo modo qui dopodiché nel percorso ho avuto l'idea e la fortuna di incontrare anche dei privati che hanno insieme alla forza pubblica del teatro contribuito a fare in modo che questa cosa qui avvenisse abbiamo iniziato il 9 novembre c'è un pool di insegnanti che è un pool di insegnanti internazionali che sono riuscito a strappare a scuole molto famose nel mondo tutto quello che diamo ai ragazzi è gratuito ed è... io credo molto nel fatto che il talento italiano si è messo in condizione di avere una formazione che è quella che normalmente sia anche all'estero possa essere competitivo anche a livello internazionale per cui è una realtà meravigliosa il fatto che sia a Firenze perché è impossibile che Firenze non abbia vista la sua... come dire... è la culla della nostra cultura è naturale che sia qui è un posto in cui un ragazzo, uno studente uscendo e facendo tre passi ha di fronte a sé l'ideale di bellezza più formato che c'è in Italia forse e tra l'altro un ideale di bellezza che è formato su un'idea di sistema non di un unico individuale talento e che è una cosa che secondo me sarebbe bello riuscire a copiare in qualche modo e portare verso il futuro Puoi dirci qualcosa in più della scuola? Quanti allievi avete? Come è strutturata? Noi abbiamo avuto, ed è una sorpresa, è una specie di miracolo 640 domande di iscrizione considera che è il primo anno di scuola e generalmente le scuole che esistono da qualche centinaia d'anni hanno 700-800 domande abbiamo fatto due fasi di esame e abbiamo preso 13 ragazzi abbiamo preso 13 ragazzi perché crediamo che per poter fare in modo che loro crescano bene e che vengano seguiti bene non si possa apprendere troppi ragazzi e sono un bellissimo gruppo non sono qui perché io non credo alla spettacolarizzazione della formazione credo che la formazione necessariamente abbia bisogno di uno spazio privato in cui sbagliare e quindi ho chiesto loro di non essere presenti perché hanno il diritto di non essere ancora presentati al mondo fino a quando non è il loro modo di lavorare non permetterà loro di dire chi sono al mondo il pensiero corre a Vittorio Gasman qui vicino oltre la parete c'è stato lui c'è stata una scuola per giovani ti chiedo cosa serve ai giovani dal punto di vista proprio della preparazione tu dicevi grandi giovani in Italia in cosa devono migliorare? ma non credo che sia compiuto dei giovani credo che sia compiuto degli insegnanti forse nel mio campo ma non credo solo nel mio c'è un po' di ritardo sulla formazione in generale e quindi quando io dicevo prima che si deve mettere in condizione i giovani italiani di avere lo stesso tipo di formazione che si ha nel resto del mondo già da 40 anni, 30-40 anni a questa parte altri paesi nel mondo hanno continuato ad avere una pedagogia del nostro mestiere che si è nel frattempo messa al passo quei tempi ma è solo lavoro ed è il motivo per cui buona parte dei nostri insegnanti provengono da quelle scuole ma la mia finalità è che poi magari si possano formare insegnanti qui dentro che possano essere italiani e che tutto questo possa essere effettivamente completamente made in Italy io considero questa giornata una giornata storica perché rinasce quel grande polo culturale di eccellenza che l'oltrarno ha vissuto qui con i grandi uomini come Cantor, come Gassman pensate in questa strada avere il cantiere Goldonetta con Virgilo Sieni che è uno dei centri di ricerca nella danza più importante al mondo la scuola di eccellenza che nasce oggi con Pierfrancesco Favino uno dei più grandi attori il teatro Goldoni significa davvero ricostituire ciò che sembrava impossibile rifare quel cuore pulsante della cultura nell'oltrarno è anche questo un altro tassello di quel progetto ambizioso difficile ma che vogliamo portare in fondo di riqualificazione di tutta questa parte del centro storico che resta forse la parte più autentica di Firenze si tratta di un'importanza unica e assoluta perché la nostra offerta formativa che ha come base e come priorità l'esperienza di costa, la scuola costa e il centro di avviamento all'espressione ha nell'oltrarno così come nel work center Grotowski a Pontedera elementi di alta formazione, di perfezionamento, di studio ulteriore ma il termine vero probabilmente è alta formazione che sono indispensabili per completare un'offerta formativa che sia rivolta veramente a formare l'attore del futuro a formare chi il teatro in futuro potrà cambiarlo, trasformarlo o renderlo diverso da quello che è oggi quindi è un'offerta sicuramente importantissima per questo e per dove si colloca cioè l'oltrarno, cioè a fianco di altre esperienze formative importanti come Virgilio Sieni con una storia alle spalle che è quella dei Gasman e dei Cantor quindi sono molti gli elementi di eccellenza di questa esperienza fondamentale per il Teatro della Toscana Grazie Grazie Grazie